Benvenuti nella scuola Orselli, precisamente nell'auditorium. Nell'auditorium ci sono tre uscite di emergenza, una è quella da cui si trattati, che vi porterà in corridoio. La seconda uscita sulle due porte in fondo a sinistra, che permettono anche alle persone diversamente abili di uscire con facilità e di raggiungere direttamente il punto di raccolta. La terza è accanto al palco, che permette di arrivare nel cortile. Da questa uscita completare il giro attorno alla scuola. Le emergenze possibili sono un incendio e un terremoto. In caso di incendio vi si chiede di muovervi in fila ordinata. Le persone sedute nelle prime file dovranno muoversi dall'uscita di emergenza accanto al palco. Invece le restanti dall'altra uscita di emergenza. In caso di fumo coprite le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato. Le ultime persone ad uscire si devono assicurare che non sia rimasto nessuno all'interno dell'auditorio e che tutte le finestre e porte siano chiuse. Aiutare chiunque abbia delle disabilità fisiche di non agitarsi. In caso di terremoto copritevi la testa andando sotto sedie o tavoli. E dopo essere accertati chi si è finito, proseguite in fila ordinata verso l'uscita. In entrambi i casi sentirete una campanella e non dovrete prendere i propri effetti personali prima di evacuare. Chiamate i soccorsi, polizia, ambulanze, vigili del fuoco. Il numero universale è 112. Noi ci.